Quello del centro sociale, Samantha Della Porta, è stato solo il primo dei vari incontri promossi dai lavoratori idraulico-forestali della regione Campania. A pochi mesi dalle elezioni regionali, gli operai delle comunità montane e delle province non ci stanno e chiedono con forza al governatore De Luca e dalla regione Campania maggiore dignità per tutti i lavoratori, ma anche e soprattutto la stabilizzazione per gli operai a tempo determinato che sono a tutti gli effetti precari e quindi in alcuni mesi dell'anno. Disoccupati, decisa la posizione dei due operai Antonello Alvigi e Pasquale Larotonda che a nome di tutti i colleghi chiedono che siano mantenute le promesse annunciando in caso contrario azioni importanti di protesta. Noi siamo qui praticamente per dire basta a questa politica e a questa inerzia della politica che praticamente non arriva ad una soluzione vera del nostro settore. Innanzitutto noi abbiamo chiesto due cose principali che poi sono le cose che De Luca ha detto nel 2015 all'hotel della Villa che sono uno il fondo di rotazione che garantisce lo stipendio a tutti gli operai sia a tempo determinato che a tempo determinato ma noi abbiamo chiesto la stabilizzazione visto che il più piccolo di noi sta andando in pensione ancora precario e io credo che questa sia una situazione inaccettabile anche perché negli ultimi giorni è successa un'altra manovra politica che è becera e squallida sotto tutti i punti di vista. Non vogliamo sulla nostra pelle ancora una volta che si venga fatta campagna elettorale sul discorso operai a tempo determinato. De Luca ha detto delle cose e vogliamo che queste cose vengano portate a termine senza se e senza ma perché altrimenti noi da qua e qualche mese vediamo come possiamo agire. Prima di tutto un appello alla ricollezione sindacale che si attivano subito da subito già da domani a chiedere di incontro alla regione Campania e successivamente al Presidente De Luca deve dare risposta se no altrimenti sono scelte politiche che si fanno e noi ci vediamo in giro. Non le vuole fare queste scelte politiche. Ognuno si assume la sua responsabilità. Più di questo noi non possiamo fare. Non siamo persone maleducate e nello stesso tempo andiamo a minacciare il Governatore De Luca. Chiediamo quello che ha detto lui. Punto. Perché siamo disoccupati.